La Guardia di Finanza di Teramo a supporto dell'attività della Procura di Roma ha dato esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di Davide Ciaccia, uno dei due soci di maggioranza del Teramo Calcio, che si trovava proprio nel capoluogo a Prutino. Analogo provvedimento nei confronti del fratello Mario, che però non si trova in Abruzzo. E soprattutto il sequestro del 60% delle quote della società di calcio, che lo scorso 8 novembre erano passate da Franco Iachini, appunto, ai fratelli Ciaccia. Le fiamme gialle di Teramo, dirette dal comandante provinciale Gianfranco Lucignano, sono dunque di supporto ad un'operazione più ampia, che riguarda sei regioni e numerose società, e che è partita dalla capitale. Il provvedimento nei confronti di Mario e Davide Ciaccia, emesso dal Pubblico Ministero per questioni di urgenza e per il timore che il reato venga portato a compimento, dovrà comunque essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari. L'accusa è grave. Associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, indebite e compensazioni, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia. Il tutto nell'ambito dello sfruttamento fraudolento, secondo l'accusa degli incentivi statali, l'eco bonus e il 110% per le ristrutturazioni. Davide Ciaccia è stato fermato all'hotel Sporting, dove si trovava da ieri, e portato alla caserma della finanza di Teramo. Le quote della Teramo Calcio, invece, sono state affidate al custode giudiziario. Insomma, un vero e proprio terremoto in casa bianco-rossa a pochi giorni dal closing e a cinque giorni dalla presentazione al Parco della Scienza, nella quale il sindaco, Gianguido D'Alberto, aveva dato il benvenuto ai nuovi proprietari del club bianco-rosso. Il fermo dei Ciaccia congela, per il momento, la parte più consistente del pacchetto di quote societarie, mentre il restante 40 è ancora in capo a Franco Iachini. In attesa dei dettagli da parte della Procura di Roma, che potrebbero essere svelati nei prossimi giorni, l'interrogativo per la piazza bianco-rossa riguarda il futuro. La trasferta di Carrara alle porte, certo, ma l'orizzonte più lungo è quello che desta le maggiori preoccupazioni.